eccomi qua con le pagelle signori pagelle molto molto politically correct e veloci vi rubo pochi minuti questa sera scesni sv non ha praticamente fatto nulla non è intervenuto su nessun pallone danilo sei e mezzo signori se danilo continua a giocare così chi la sente la mancanza di sandro nessuno bonucci 6 bonucci dovrebbero togliergli ogni volta che fa un lancio dovrebbero togliergli 50 mila euro dallo stipendio così a fine mese deve dargli lui la juventus perché non ne azzecca uno da tre anni bonucci è veramente in condizioni psicofisiche secondo me molto 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 scadenti chilini sei in mezzo il vecchio ha fatto delle buone aperture ha difeso senza problemi ha fatto una sciocchezzuola in fondo ma insomma su quattro a zero ci poteva stare si merita il 6 e mezzo fra botte sv praticamente entrato in campo partita morta quadrato 6 e mezzo gli do 6 e mezzo perché ha fatto l'assist per il primo gol altrimenti gli aveva dato 6 perché è un pasticcione il mio quadrato è un pasticcione comunque 6 e mezzo se ne merita arthur che nell'intervallo è rimasto negli spogliatoi perché ha avuto un attacco di sapete un attacco intestinale mi stava piacendo tantissimo probabilmente avrebbe preso anche un 7 ma gli do 6 e mezzo perché con un tempo e basta non sono in grado di dare una valutazione completa ram 6 e 6 stava giocando abbastanza bene anche lui il solito problema purtroppo giocatore che non è affidabile sul piano fisico ma tecnicamente taticamente niente da dire rabbio 6 anche lui è un altro pasticcione si dimentica il pallone insomma un giocatore che potrebbe fare di più ma di più non può fare metan cursa è entrato nel secondo tempo ha fatto le sue giocatine normali e continua ad avere questo brutto difetto di entrare in maniera ruente sui difensori è andato bene che non hanno munito deve cercare di calmarsi un attimino e giocare un pochettino più rilassato mckenny sv praticamente non ha fatto niente a parte la finta sul gol molto bello di morata bernadeschi sv non ha praticamente inciso in niente chiesa 6 e mezzo ha fatto qualche bella sgroppata è un giocatore che deve imparare a passare di più la palla però è un giocatore che secondo me potrà dare tanto alla juventus morata 9 e mi sembra giusto e mi sembra giusto è in assoluto il giocatore più in forma di tutta la rosa non di tutta la palla di tutta la rosa non sbaglia una partita è sempre dove deve essere è fantastico in questo momento in questo momento morata non fa rimpiangere il miglior traseghè e il miglior filippo inzaghi è impressionante veramente impressionante continua così al varito perché sei veramente el cobra sono contento che ti ho soprannominato el cobra credo che sarà il tuo soprannome nei prossimi anni continua così CR7 6 purtroppo CR7 stasera voleva tutti i costi far gol ma si vede che è in ritardo di condizione arrivava sempre dopo lo sopravvanzavano fisicamente gli altri però insomma dai non sono queste le partite in cui deve uscire CR7 le partite in cui deve uscire sono quelle altre quelle con la Lazio quelle con l'Inter quelle con il Barcellona quelle agli ottavi e poi alla fine di Barra che ha giocato 20 minuti 6 ha fatto qualche buona cosa da lui mi aspetto tutt'altra roba da Di Malla mi aspetto molto 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 di più però diciamo che quello che è stato è stato perché la partita insomma alla fine è finita tra la luce e vino signori Pier lo viviamo 6 partita diciamo che doveva essere condotta così la condotta così il primo tempo ha messo in campo la formazione che piaceva molto a me con Ramsey e con Arthur il secondo tempo purtroppo costretto a cambiarli però insomma dai 4-0 4-1 peccato il gol ma vabbè peccato veniale li perdono li perdono e niente vi do appuntamento ai prossimi giorni con altri video ovviamente perché questa è una partita che io ho sentito meno di zero però ripeto l'importante come ho detto nella preview ieri era portare a casa tre punti perché con questi tre punti abbiamo già mezzo piede nella qualificazione perché il Ferenc Valos e la Dinamo Kiev sono a un punto pensate un po' ciao iscriviti al canale iscriviti al canale